Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Oggi parliamo della sindrome del tunnel carpale o anche definita come infiammazione del tunnel carpale. Problema fastidiosissimo, problema dolorosissimo. È data dalla compressione del nervo mediano nel suo passaggio attraverso il tunnel carpale del polso. Qualcosa di dolore. Infatti, quali sono i sintomi? Dolore a tutta la mano, dolore al polso, associato spesso a parestesie, quindi a intorpedimenti proprio di cosa? Del pollice fino alle prime tre dita, quindi sì, come un'anestesia, ma spesso l'intorpedimento va a prendere anche tutta la mano. I soggetti normalmente tendono a svegliarsi anche durante la notte per un dolore che viene definito un dolore sordo, questo intorpedimento di tutta la mano, questa specie di paralisi della mano che passa solo andando a scuotere, agitare in questa maniera la mano per cercare di alleviare un pochino la sofferenza e il dolore notturno. L'approccio farmacologico all'opatico da cosa è dato? Dall'utilizzo per uso interno ovviamente di analgesici come i FANS e come il paracetamolo. E anche qui spesso capita in persone anziane, persone che già utilizzano altre terapie farmacologiche e sono costrette a utilizzare magari dei FANS per un periodo medio-lungo per cercare di far passare questo dolore. I FANS ovviamente nascondono dietro l'angolo la problematica delle ulcerazioni a livello dello stomaco, dell'intestino, possono creare delle problematiche e un peggioramento ad esempio del reflusso gastroesofageo, dell'acidità di stomaco. Dall'altra parte il paracetamolo va a generare una deplezione del sistema del glutatione, quindi mi espongo a uno stress ossidativo sempre più importante che paradossalmente va a peggiorare nel lungo periodo la problematica dell'infiammazione del tunnel carpale. Comunque quando questi approcci non funzionano si tende a utilizzare l'infiltrazione addirittura di cortisone, quindi una punturina che viene fatta dall'ortopedico, dal fisiatra, e ovviamente il cortisone è il più potente antinfiammatorio che conosciamo, però si è visto che può andare a generare delle degenerazioni dei tessuti come ad esempio delle cartilagini. Insomma si arriva poi alla fine all'intervento chirurgico, si tende a immobilizzare il polso, quindi con dei tutori in posizione neutra, vengono definiti così. Dall'altra parte abbiamo l'approccio fitoterapico, estremamente efficace, devo dire, e questo lo confermano anche numerosi studi scientifici. Nell'approccio fitoterapico cosa si utilizza? Innanzitutto la gemmoterapia per andare a drenare la matrice extracellulare del nervo, quindi lì abbiamo una compressione del nervo che mi crea questa infiammazione e questo dolore. Allora con la gemmoterapia si riesce a drenare il nervo in modo tale da eliminare tutte le citochine e le prostagrandine che creano infiammazione a quel livello. Un gemmo derivato molto utilizzato dai tempi molto antichi è proprio il Les Ampelopsis Vecci. Si utilizza un 40 gocce al mattino e 40 gocce la sera, prima dei pasti perché è un gemmo derivato. In alternativa al Les Ampelopsis Vecci si può utilizzare un complesso di gemmo derivati chiamato vitis vinifera composta, sempre in 40 gocce al mattino o 40 gocce alla sera e comprende il famoso Ribes Nigrum che è un potente antinfiammatorio quasi verso il cortisonico naturale, la bete, la betulla, il pino, insomma sono tutti gemmo derivati che in maniera diversa hanno una certa azione antinfiammatoria a livello del nervo. E questi sono gli strumenti in gemmo terapia. Poi possiamo andare con le tinture madri, tinture madri singole che hanno un'azione spiccata antinfiammatoria. Ad esempio la SIS Partenio ha una buona azione verso determinate prostagrandine del dolore a livello neuronale, quindi mi funziona molto bene. Si può utilizzare un gemmo derivato concentrato di Salixalba, quindi il PSC Salixalba, che ha un'azione proprio un po' come i FANS, un po' come l'acido acido insalicidico, ma a lavorare senza però creare delle problematiche di ulcerazioni, perché considerate che il Salixalba contiene la salicina, inoltre nello stomaco si trasforma in acido salicidico, passa nel fecal si trasforma in acido acido insalicidico e ha una certa azione su questo dolore. Si possono utilizzare degli estratti secchi, ad esempio l'artiglio del diavolo, che è proprio un meccanismo di azione, un cox-2 inibitore, però l'artiglio del diavolo bisogna utilizzarlo in compresse gastroresistenti. La gastroresistenza la possiamo ottenere in fitoterapia con il rivestimento esterno della foglia della pianta, io consiglio un rimedio che si chiama Arpadol, e perché no bisogna integrare il complesso delle vitamine B. Insomma, questo è utilizzo il B-Genome. Questi sono tutti gli strumenti che in fitoterapia si possono mettere in campo, insieme all'immobilizzazione, quindi insieme al tutore per il polso, per andare a migliorare in un periodo di 3-4 mesi la problematica. Si può lavorare a step, ci si può far consigliare da professionisti che utilizzano la fitoterapia, in linea di massima bisogna associare sempre un gemmo derivato e una tintura madre o un estratto secco. Scegliendo fra questi, a livello soggettivo, in alcuni soggetti funzioneranno determinate piante, in altri, altre piante. Ma così come anche in allopatia abbiamo visto che in alcuni soggetti per questo problema, per questo dolore funziona meglio il paracetamolo, per altri, il fans di turno. Quindi bisogna valutare caso per caso. Grazie dell'attenzione e seguite i miei consigli. Ciao!